Sono precisamente le 5.50, adesso si va a pescare finalmente La trota non si vede niente, sarà sui 30 scarsi, poi quando c'è Lucio la faccio vedere E l'ha preso una trota, porco giù la sei grande, bella, un'iridea, mamma mia Ce n'è la pinza di prestare? Eh, mi sa di no, te la tolgo io Un affario dopo l'altra Mamma mia, io sono già a due Gabri A tre, ho preso un bel manzetto Ma poi stiamo prendendo trotti veramente grandi Cioè, due manzi e i pescetti Ragazzi ho preso otto trotti Qua Sono otto